Siamo davanti all'Istituto Comprensivo del Marti di Civitella di Elpino con la professoressa Yasmin Santini, preside di questo istituto. Ancora non si è spento l'eco del Mercatino del Calcite, la seconda sessione al Centro Affari e Convegni di Arezzo, perché questo istituto ha conseguito un bellissimo risultato, il record di incasso. La 250 che ha aggiunto agli altri ha fatto un bel incasso per il Mercatino del Calcite, il secondo Mercatino del Calcite, delle scuole di danza e organizzate dalle scuole aretine. Allora la preside dell'istituto, professoressa Yasmin Santini, una bella soddisfazione ma tanta fatica. Tanta fatica ma soprattutto da parte dei genitori e dei ragazzi che sono stati i veri protagonisti dell'iniziativa. Vediamo una rappresentanza, poi lasceremo la parola ai ragazzi perché sono loro i veri protagonisti che hanno davvero lavorato con un gruppo di genitori che sono molto attivi. Qui a Badialpino la solidarietà è un'idea fondante della scuola, è un'idea su cui si lavora anche con progetti didattici durante tutto il corso dell'anno e quindi quando si raggiunge un risultato di questo genere è davvero il risultato di un prodotto complessivo e di un'idea complessiva che circola all'interno dell'istituto e di cui noi i nostri ragazzi ci portano ad avere dei risultati notevoli ogni qualvolta si muovono con l'idea di aiutare, di partecipare, di essere presenti con questo sorriso che li caratterizza. Quindi io voglio soprattutto ringraziare loro, ringraziare il gruppo dei genitori, la consulta dei genitori, il comitato che ha lavorato con il Calcit perché sono stati veramente attivi e si sono impegnati a lungo per raggiungere questo risultato. Oggetto caratteristico di questo secondo mercatino era il cuoricino del Calcit dove vediamo qui al petto di alcune ragazze. Allora un bel oggetto acquistato al mercatino? Sì, un bel oggetto. Questo cuore per noi valorizza un aiuto che chiediamo a bisognosi grazie appunto al Calcit che quest'anno ha avuto la grande idea di fare questo cuoricino che noi ora portiamo nel collo come segno di riconoscimento per le persone bisognose che hanno bisogno di soldi e di cure che il Calcit si preoccupa. Grazie.